Qui alla Luce del Cuore, già da qualche anno, abbiamo iniziato a proporre lo yoga naturista. Si tratta di Atta Yoga, ma la lezione viene svolta in nullità. Perché questo? Perché siamo un'associazione naturista, però anche un'attività come lo yoga, affrontato in nullità, è un'esperienza diversa. Secondo me porta a maggiore radicamento o a sentire comunque molto di più le asana e il corpo nel suo radicamento. È vero che nell'antichità si praticava nudi? È vero che in origine gli oginis praticassero nudi? Sì, sì, questo è vero. Sicuramente non in occidente, ovviamente, però in India e in oriente sì, in origine si praticava nudi, perché non c'era nessuna vergogna del proprio corpo. Anzi, l'esperienza dello yoga era comunque legata alla spiritualità. In ogni caso, anche in quello che noi proponiamo, c'è questa parte molto forte, secondo me. Grazie. Grazie. Grazie.